Quest'anno è il secondo anno che l'associazione Punta Tresino ci dà la possibilità di organizzare i mercatini alla festa del pescato di Paranza che è un'ottima promozione, un'ottima vetrina per i mercatini che faremo da fine giugno fino a settembre comunque su Lungomar di Santa Maria, San Marco e in altre location del comune di Castellabà. Qual è il programma di questa edizione 2017 dei mercatini? Quali le date e come si svolgerà? Quest'anno abbiamo cercato per facilitare i visitatori, abbiamo fatto giorni fissi, cioè il venerdì siamo sempre a Santa Maria sul Lungomare di Simone il sabato siamo a San Marco nella piazza Monsignor Passaro e la domenica a volte siamo a Perdi Fumo, faremo gli astromarini ed altre tappe di mitra quindi abbiamo fatto i giorni già fissi per facilitare i compiti agli espositori, ai turisti. A proposito di espositori, quali ci saranno? Abbiamo cercato di privilegiare assolutamente i espositori, soprattutto del Cilento, anche perché col comune c'è questa idea di valorizzare gli artisti, gli artigiani creativi della nostra zona e dargli una vetrina importante ed anche un modo per recuperare che attivino le spese per produrre i loro articoli.